Arrivati a Oslo si vede subito anche una Tesla col trailer, una Model X 90D che si porta il suo trailer dietro, questo in Norvegia, Oslo. Tesla dappertutto ma non solo Tesla, quella per esempio dovrebbe essere ibrida, poi ci sono Mitsubishi, i miev, ci sono Nissan Leaf, BMW i3, noi adesso seguiamo un attimo questa Model X col trailer che è troppo figo. Comunque nel clima invernale la Tesla è eccezionale perché ha la trazione migliore, ti scaldi l'abitacolo prima, è una cosa pazzesca, un comfort incredibile. Abbiamo salutato questo sembrator, è muscoloso lì qualcosa, seguiamolo un attimo ancora. vediamo come va, la racing, nel parcheggio, vuoi finire nel parcheggio? No, non voglio andare nel posteggio, vabbè, non mai siamo dentro, magari troviamo la ricarica. Ah, qua volendo puoi fare rotonda e uscire. Sì. Ah, sono tutti taxi, beh, in giro è interessante. Qui sembra veramente un po' Gotham City, eh? Siamo finiti dentro la stazione, credo. Guarda che figata, qua con tutti i taxi, vediamo se ci sono anche dei Tesla taxi, vediamo. qui vedo tante Toyota, Toyota, Mercedes, 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 Mercedes. I taxi non è ancora penetrata la Tesla, eh? Mentre invece in Olanda sì. Si è fatto un giro anche lui. Comunque le biciclette ce ne sono anche qua, eh? Beh, anche questo giro qua alla stazione, seguendo la modelisco il trailer, è divertente, eh? Adesso lui si posteggia qua. Eccolo qua, ti diamo un saluto. Tone Hotel Opera. Incredibile. Che posti strani. Vero? Mh. Spengo. Spengo. Vieni. Spengo.